Hello guys, Renner here! Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale Siamo oggi su Hearthstone Sono tornato dopo un sacco di tempo Ma prima di partire, un piccolo off topic Che non c'entra un cazzo con Hearthstone Spero si veda, questo è Clash of Clans Io ci sto giocando tantissimo Ultimamente ho aperto un mio clan Se volete entrare vi basta semplicemente cercarlo Tra la lista dei clan come Ren di Renna, c'è ovviamente L'invito, che significa che dovrete Semplicemente fare la richiesta per entrare Io vi accetterò, se volete Giochiamo tutti insieme a Clash of Clans A me farebbe un sacco piacere E niente, adesso si parte subito con Hearthstone Ok signori, allora sono rank 16 Stiamo facendo una scalatona Per cercare di superare quello che è Il mio best record, almeno il nuovo best record Che è il rank 11 In classificata Sono qua nella casa nuova Voi probabilmente non vedete niente Da questa inquadratura Siamo contro un Hunter dorato Che brutto Ho il volume a palla Quindi aspettate che lo abbassiamo un pochettino Ok E vediamo di vincerla Vediamo di vincerla Ho mangiato poco fa Mi sono trasferito Signori va tutto ok Tranquilli È un po' Un po' Un problemino Insomma È stato un po' un problemino La prima settimana Però ho cercato di arrangiarmi come posso Spero di potervi caricare questo video Già domani Che dovrebbe essere martedì Allora Siamo Contro un Hunter dorato Dipende che Hunter è Il fatto che non abbia calato nulla di primo Ci fa sperare bene Ci fa sperare uno Che potrebbe essere Midrange E sul Midrange Se peschiamo bene Qualcosina possiamo farlo Se invece Ha pescato male Ed è un Face Hunter Signori Siamo in cacca Buono Ci ha distrutto l'arma Proprio bello così Eh Proprio bello così Sapete che sono quasi tentato Di togliergli Quella melmetta Col colpo di scudo Ma quasi quasi Vai così dai Eh Se vedete Ho il gameplay un po' più lento Perché lagga È normalissimo Nella casa in cui sono adesso Ho una connessione Scrausissima E per il momento Non la posso cambiare Quindi signori Ci accontentiamo Di quello che c'è E E va bene così Per il momento Poi tranquilli Perché se tutto va bene Signori Se tutto va bene Fidatevi dell'amico Randy Se tutto va bene Va bene Boh Vediamo per il momento Intanto come Come procedere Della situazione Qua in campo Signore Non è semplice Non è per niente semplice Io spero Mi si veda Perché attualmente Ho solo uno schermo Non ho l'altro schermo Che è smontato E ho paura Non si veda Non mi si veda bene Allora Lui ha Un'arma 3-1 Un mostriciato 3-1 Noi possiamo mettere Uno sputafango A terra Che può funzionare Può davvero funzionare Intanto io sento Qualcosa di strano Nei suoni Boh Forse è una mia impressione Poi controllerò Meglio C'ho qualche problemino Con i driver audio Signori E da quando ho rimontato Il computer Purtroppo Vediamo Allora la cosa buona Sarebbe Giocare del prossimo turno O Sylvanas Oppure Sarebbe Molto Simpatico Poter giocare La Corsa in Cerro Se ci uscisse Quella sarebbe Molto interessante Signori Molto molto interessante Però Non lo so Non la vedo Molto fattibile Come cosa Infatti Te pareva a te Allora Per non sbagliare Facciamo così Così Buono A posto E facciamo pulizia totale Del campo Ci facciamo anche Tre di armatura Lui resta Con Tre di attacco E un segreto Che probabilmente Sarà il due danni A tutti Quando attacco Che mi va anche bene In realtà Per il momento Se non mi fa danni Ai mob E Quell'arma Che se non utilizzo Ovviamente Si ricaricherà Di uno E sarà Fastidiosa Noi abbiamo bisogno Di accumulare Tanta 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 Armor Ho provato A scalare Un pochino Con il pattern All'inizio Ma sapete Signori Sicuramente Sono io Che non so Usarlo bene Quindi tranquilli Però Devo dirvi la verità Il pattern A livelli alti Non riesco A usarlo bene Cioè Ci perdo Spessissimo Ancora più Di quanto Ci perdo Normalmente Quindi Non è Un granché Ha scelto Di distruggere La sua arma Ah Ha scelto Di distruggere La sua arma Signori Non me lo aspettavo Io gioco Una bellissima Sylvanas Ignorante Perché Tanto fuori Non ce la può fare Se ce la fa fuori Gli fottiamo qualcosa E siamo contenti E poi Nel caso Prossimo turno Abbiamo La signorina Dello scudo Che ci fa Cinque D'armatura È Mega brutto Adesso ci schianta Il 2 1 No Aspettate Tutto face Tutto face Nella maniera Più ignorante Che può Fichissimo Tutto face Nella maniera Più ignorante Che può Ok Signori Io Ho un'idea Io Ho un'idea E l'idea È questa Allora Potenziamo L'amico Frizzo Ci shottiamo Sylvanas Ci andiamo A uccidere Questo 2 Cono fastidioso Anche facendoci Due danni E boom Cinque D'armatura Ma abbiamo Messo in situazione Di vantaggio Noi con un 2 2 Un 5 5 Sappiamo Che quel Segreto Ormai È sicuramente Quello che O quando attacchi Crea Un orso O quando attacchi Fa due danni A tutti Ma comunque Siamo lì Signori Non lo so È tosta Uh La corsa in cero No Ok Vada di corsa in cero Poi Ascoltate me Facciamo così Facciamo così Due danni A tutti A posto Cinque danni A lui faccia E Quattro Armatura A noi Signori Con la corsa in cero Abbiamo appena Ribaltato Le sorti Della nostra Partita Perché Per quanto Avevo previsto Che il segreto Fosse quello Non era così Sicuro Giocare Garrosh Mentre adesso Che possiamo Farci quattro D'armatura A turno È già più sicuro Fare delle Cappellate Allora 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 Io Sfonderei L'amica Amica Chips Amica Chops Facciamo così Quattro D'armatura Che non si sbaglia Mai Qua sei danni E quattro D'anni Faccia Dieci In totale E signori Mi sa che abbiamo Vinto Perché se ci toglie La sei uno A posto Se ci toglie Garrosh Ma la vedo difficile Ci toglie Garrosh Abbiamo vinto Benissimo Siamo in streak Sapete che non mi ricordo Forse si Vediamo Siamo in streak Arriviamo A 15 Con due stelle Ottimo 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 Siamo a buon punto Ci mancano Quattro rank Da quello che è il mio Record personale Spero di riuscirlo a fare Entro fino a mese Signori Noi ci vediamo al prossimo video Lascia vi piace Al commentino Mi raccomando Venite su clash of clan Nel mio clan Vi ricordo Basta cercare Randy Elena Ci vediamo lì Mi raccomando Tantissimo Nei commenti Fatemi gli auguri Per il ben tornato Se si può dire Ed enjoy E' clarenza con voi Bye bye